e care amiche e cari amici adesso vi farò vedere come pulire un forno dall'interno procediamo dunque bisogna rimuovere la parte interna del fondo forno l'avevo previamente illuminato ora come noi possiamo vedere per accedere alla parte dove di solito cadono i residui la sporcizia le impurità il cibo bruciato le molliche oltre a pulire qua sopra questa placca protettiva noi dobbiamo asportare la stessa quindi basta alzarla e levarla cosa che non è facile fare con una mano io già ho lavato questo forno in anni in anni che lo uso più di dieci forse 15 ma voi vedrete come ci sono sempre delle delle molliche delle cose e poi bisogna tenere ben messo nella sua nel suo gancio nel suo ormeggio quella sticella unita a un filo di ferro che il termometro del forno quando arriva una certa temperatura diminuisce la fiamma adesso passiamo a rimettere vediamo se riesco con una mano perché non ho cavalluccio no no dobbiamo dobbiamo rimettere ecco ecco qua e poi dobbiamo mettere ecco qua ci diamo la luce io in un video del 2014 già vi avevo fatto vedere come accendere un forno a gas con il dispositivo elettrico e adesso vi ho mostrato come smontare un forno a gas per pulirlo spero che mio questo mio breve video tutorial vi sia piaciuto oggi presto ne farò un altro e visto che vi è molto piaciuto il mio video tutorial di come accendere un forno a gas con il scintillatore adesso ho voluto fare quest'altro video dopo o più di otto anni in modo che tutti quelli che continuano a guardare l'altro video possano avere una una valida alternativa ecco qua mi prendo meglio mi prendo forse avrei dovuto a filmarmi filmarmi così sono venuto sfocato all'inizio cioè in ombra perché perché c'è il sole sole davanti non ci ho pensato allora vi saluta il vostro youtuber italiano santenchan la star forno qua sto io mi raccomando non lasciate di seguirmi iscrivetevi al canale azionate la campanella abbonatevi se potete e guardate anche tutti gli altri miei video ciao